Eccola, slanciata dalle foglie di un verde brillante. A guardarla si comprende subito perché l'hanno chiamata quercia elegante. È un esemplare unico al mondo, se ne registra soltanto un altro dalle caratteristiche molto simili in Bulgaria ma è andato distrutto. Invece questo ibrido tra cerro e quercia spinosa cresce rigoglioso sul ciglio della strada nelle campagne di Carpignano-Salentino. Vi si è imbattuto mesi fa l'ambientalista Oreste Caroppo che di fatto l'ha scoperto. Da qui il nome Caroppoi dato alla nuova specie. Un dono bellissimo che ci giunge da questa terra e che arricchisce la biodiversità del territorio salentino ma che ci fornisce anche tantissime informazioni rispetto a quello che era il clima di questo territorio, rispetto a quello che era l'habitat salentino, rispetto a quello che era il Salento soltanto pochi decenni orsono, pochi secoli fa. A dare conferme scientifiche della sua unicità gli studi del ricercatore botanico Piero Medagli dell'Università del Salento. Due ora gli interventi su cui si concentrano l'amministrazione del comune nel cuore della Grecia, gli scienziati e gli ambientalisti, preservare fisicamente la pianta con recensioni e cartelli informativi e favorirne la proliferazione. Il comune di Carpignano farà richiesta alla regione di accedere ai fondi del progetto Bosco Permanente al fine di piantumare querce eleganti in una zona già individuata. E al proprietario del terreno, Antonio Greco, ex dipendente comunale, che ha conservato questa nuova entità botanica permettendo di conoscerla e studiarla, andrà il premio custode della quercia. Un esemplare unico, che è di tipo ibridogeno, quindi in realtà non si tratterebbe di una vera specie ma di un ibrido. La caratteristica è che questo ibrido è un ibrido fertile. O dove propagarle? Potremmo creare un piccolo nucleo presso l'orto botanico e poi presso aree protette, per esempio c'è la vicina riserva naturale delle Cesine. Grazie.